buonasera a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovo video allora comunicazione importante a tutti soprattutto ai nostri colleghi youtubers allora per chi è in possesso di un canale anche se non fai video non fai contenuti ma basta che è un canale youtube vi invito calorosamente a segnalare al fine di far chiudere il canale di the borderline adesso vi faccio vedere come si fa allora di un canale basta andare qua sul canale the borderline andare qua andare su informazioni cliccare qui informazioni andare qua segnala segnala utente proprio tipo di segnalazioni la più comune è spam e frodi metti qua il motivo è questo qua siamo costantemente al lavoro dovanto così andate qua andate avanti e poi sempre cliccate tutti i video che ci sono praticamente quindi andate qua su informazioni andate qua sulla bandierina segnala ve lo faccio rivedere segnala utente e mettete spam spam e poi fate come vi lascio anche il link di questo canale di quel canale inutile lascio il link di quel canale inutile in descrizione in modo che così vi potete collegare direttamente a quel canale segnate un attimo segnate in massa ecco qua segnati in massa quel canale vi parlo soprattutto a voi colleghi youtube segnalate in massa quel canale e invitati i vostri follower che magari hanno un canale oppure un canale demo un canale che non ci ha contenuti a segnalare quel canale al fine di farlo chiudere perché un canale del genere ma non solo per quello che è successo in per quello che è successo e secondo perché comunque canale come questi canale come questi qua ma ce ne sono tanti altri sono canali che non servono sul web sono canali che non hanno contenuti interessanti e soprattutto sono canali che non meritano di essere monetizzati un canale come questo che fa video di contenuti che anche se sono divertenti comunque non portano a nulla non portano utilità nel web infatti come come dice il mio amico il mio amico e collega marco se tutti che se togliessero la monetizzazione a canali come questi almeno l'ottanta per cento secondo me il 95 per cento di questi canali sparirebbe fondamentalmente quindi ragazzi soprattutto cari colleghi youtubers a tutti voi che mi ascoltate vi invito a segnalare questo canale se riceve almeno penso mille spam mille segnalazioni per spam sicuramente youtube può fare qualcosa per farlo chiudere questo canale va bene d'accordo con questo è tutto ragazzi condividete questo video a tutti i colleghi vi invito a segnalare ea chiudere segnalare per spam questo canale che non serve a niente mi raccomando ragazzi ci conto iscrivetevi al canale rimanete aggiornati ragazzi ci conto iscrivetevi al canale